Il primo gioco in Cozzini? Sì, è stato difficile. Il primo gioco è sempre difficile. È molto caldo. Non sono le condizioni perfette per me. Ma sono felice che vengono facilmente. È sempre bello di vincere il primo gioco. Sì, sono felice. Hai un'impressione sulla superficie e Cozzini? Tutto è perfetto. Mi piace molto, mi piace molto. Il gioco è molto bello, ma molto caldo. Il gioco è davvero bello. Il clubhouse, le persone, tutti sono molto amici. Il hotel è buono. Non posso scoprire. Sì, ci vediamo la prossima.